L'arte orofa cilentana conquista il Lussemburgo. È successo internazionale per la cilentana Sara Camarosano, giovane artista e designer del gioiello di soli 24 anni, originaria di Angelara, frazione di Vallo della Lucania. Intervistata da Maria Grazia Galati per il mensile italiano in Lussemburgo Passaparola, Sara racconta il proprio percorso di studi, dal liceo classico Parmenide di Vallo al diploma conseguito presso l'Accademia Italiana a Roma in designer del gioiello e la specializzazione conseguita presso il centro orofo più grande d'Europa, la Taride Science School a Caserta. La giovane coltiva questa passione fin da bambina e ha iniziato un percorso di ricerca sul patrimonio orofo storico del cilento, tenendo convegni e curando un capitolo sull'oreficeria tarantina in corso di pubblicazione. «Ho sempre visto in oggetti, materiali, anche scarti, qualcosa da poter far rivivere», dice nell'intervista. «Il valore del mio lavoro sta nell'utilizzare la creatività per dare nuovo valore a ciò che non si ritiene possa più averne». Nonostante la sua giovine età, Sara Cammarosano lavora e studia allo stesso tempo e si è specializzata in restauro archeologico del metallo, dedicando il suo tempo e la sua raffinata sensibilità a dare carne e spirito a ciò che è inanimato, quasi come una novella Michelangelo. Auguri dunque a Sara e alla sua preziosa attività.